Un cordiale saluto a tutti voi, ben ritrovati oggi è martedì 31 marzo 2015, questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali, la trasmissione che tutte le mattine da lunedì al sabato vi accompagna nelle prime ore di questa giornata con l'informazione, con la lettura dei quotidiani, prima come sempre abbiamo però il santo del giorno, poi abbiamo le previsioni del tempo, oggi la chiesa ricorda San Begnamino, siamo all'interno della settimana santa, il sole è sorto alle 6.51, tramonterà le 19.35 minuti, il tempo, guardate questa immagine quasi in diretta, è stata scattata qualche minuto fa sulla città di Fano, vedete questa foschia nel fondo valle, a sinistra c'è la prima collina di Montegiove che qui non si vede ma comunque questa è la fotografia, 10 gradi è la temperatura quasi 11, 10.8, allora per oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso, per domani lo stesso, su tutta la costa, cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani nel settore montano, mentre per giovedì solo qualche nuvola nella dorsale appenninica, per il resto avremo cielo sereno poco nuvoloso, avremo tempo stabile, tempo stabile anche nella giornata di venerdì santo, con un probabile peggioramento tra le giornate di sabato e la giornata di Pasqua, temperature senza notevole variazioni. Allora cominciamo con la lettura dei giornali, dunque partiamo dal resto del carino, la pagina di Fano, la pagina di Fano parla dell'inchiesta, l'inchiesta che ha coinvolto, l'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli, su presunte tangenti a Ischia e che riguarda la CPL Concordia. C'è anche questa società qui, CPL Concordia, che è una cooperativa che lavora anche a Fano. Perché? Perché dal 2007 al 2016 gestisce l'appalto del calore per tutti gli edifici comunali della residenza di via San Francesco fino alle scuole. Poi, cosa scrive il Carlino? Scrive che il CPL compare appunto nella dichiarazione delle spese sostenute per la propaganda elettorale dal sindaco Massimo Seri, pubblicate sul sito del Comune. Ha detto che non c'è nessuno scandalo in questo senso, però il giornale questa mattina scrive. Scrive questo, il primo cittadino ribadisce, replica, le aziende del territorio possono contribuire alle campagne elettorali. Su questo argomento torna anche Fano 5 Stelle, ricordando a questo proposito che a fianco di quelli della CPL Concordia ci sono anche finanziamenti elargiti dalla Profiglass di 2.000 euro per l'ultima campagna elettorale del Partito Democratico. Tutto l'articolo lo potete leggere sul resto del Carlino di oggi. Poi si parla del caso profughi che verranno trasferiti dal mare. Oggi partiranno, questa mattina, dall'hotel Plaza a Lido e verranno trasferiti ad Acqualagna. Forza nuova annuncia, li seguiremo. Un operatore invece li mandano al confino. La labirinto li prenderà in carico, però dicono così noi piccoli saremo sempre esclusi. In ricordo di Ale invece, un'iniziativa che ha avuto grande successo allo Sport Park, un'iniziativa che si svolge ogni anno, si intitola Da grande vorrei fare l'inventore ed è promossa dall'associazione Il Piccolo Grande Alessandro, in memoria di Alessandro morto per leucemia. La guerra del turismo sportivo, attrezziamoci. Pesaro ruba gli eventi a Fano, eventi e presenze, però va anche detto che Pesaro è un po' più attrezzata di noi, anche e soprattutto per quanto riguarda la ricettività, gli alberghi e quant'altro. E a proposito, l'assessore dice che i prezzi degli alberghi non sono competitivi. La del Bianco possiamo lavorare su maggio e settembre. Adesso ho una serie di contatti. I prossimi eventi sono Gare di Judo, ci sono già 100 presenze ed ora ad aprile il Festival degli Scacchi. Poi sotto invece Sant'Arcangelo, la rampa ora è inutile, l'ex chiesa ristrutturata e l'accesso per disabili forse sarà eliminato. Anche qui ricorderete, qui siamo nel centro storico, la rampa che era stata posizionata qua sul lato della chiesa, ex chiesa, ebbene, la rampa venne emessa da un'associazione per disabili, la sovrintendenza diede l'ok, la città però si oppose. E adesso staremo a vedere. Imprenditore a Calcinelli, un imprenditore attentato di suicidio, è stato salvato da un carabiniere. Il brigadiere alla fine lo ha convinto a posare l'arma. L'uomo si era abbaricato con il fucile nel garage. Un bilancio di tagli per sociale, contratti a fondazione teatro, capitoli ancora da chiudere, stiamo parlando del bilancio 2015 del Comune di Fano. Poi a Cartoceto invece Maxi Piano per asfaltare le strade, ben 220 mila euro per i tratti disastrati, parlano i consiglieri, in questo caso nella foto vedete il consigliere Gianni Letizzi. Ancora da Pesaro, guardate queste due fotografie, giornata difficile sul piano degli incidenti, scivola sull'asfalto, grave un 42N, schianti a raffica nel giro di poche ore, altri due incidenti in violenza e sulla statale 16 di fronte alla BMW. Un'altra vettura è uscita di strada finendo in un fossato alle Siligate. L'altra notizia riguarda invece la sentenza shock, così l'ha definita il Carlino questa mattina, sull'ex AMGA. Tutti innocenti o quasi, condannati solo per la puzza nociva provocata ai residenti. Le condanne, seppur minime, cadranno in prescrizione esattamente tra una settimana, inflitta provvisionale di 100 mila euro in favore del Comune di Pesaro. Contravvenzione ai camionisti, non avevano l'autorizzazione a trasportare rifiuti nocivi. Apriamo adesso il Corriere Adriatico, anche qui naturalmente sulla pagina di Pesaro, in evidenza, eccola qua, la pagina di Pesaro, dicevo in evidenza, la sentenza traffico di rifiuti per l'ex AMGA, tutti assolti, smontata l'accusa più pesante per i 14 imputati, ammende, risarcimenti e qualche giorno d'arresto, disposto il dissequestro di tutta l'area, la rimozione dei sigilli e l'immediata restituzione ai proprietari. Sotto, sempre da Pesaro, parcheggio al San Decenzio e 5 Stelle sospettano favoritismi ad un privato, un'interrogazione sulle compravendite fra Comune di Pesaro e l'azienda Prioli. L'altra pagina del Corriere, niente da Fossombrone, niente ricoveri diretti all'ospedale, la circolare firmata dal direttore Andrea Cani ha messo in subbuglio i pazienti e i comitati. Sul Catria, Pascoli sul Catria, deroga, salva vita, la regione ha riconosciuto la peculiarità dell'area, l'attività sul monte resta libera. Festività di aprile, il questore Pizzi ordina controlli serrati sulle strade, predisposto anche il rafforzamento dei dispositivi di emergenza, tra le varie cose che la polizia e quant'altro le forze dell'ordine dovranno controllare, speriamo ci sia anche quella verso coloro che guardano il telefonino continuamente mentre guidano ed è un pericolo, sono mine vaganti. Con l'auto nel fosso paura per due ragazzi recuperati sotto shock dei vigili del fuoco, l'incidente è caduto poco dopo le 19 lungo la strada Siligata nel versante pesarese, due giovani che viaggiavano a bordo di una Y10 proveniente da Cattolica e Tiretti a Pesaro, una volta arrivati all'altezza della concessionaria BMW sulla statale adriatica, sono stati i protagonisti di una spaventosa carambola, la pagina di Fano invece doppia vendita per l'hotel in piazza, Santorelli l'ex assessore scrive una lettera aperta al sindaco Seri e inserisce nell'idea anche Palazzo Palazzi, dunque non solo il palazzo dove adesso c'è l'urbanistica ma anche Palazzo Palazzi che gli sta di fianco, questo è il palazzo dell'urbanistica, qui di fianco c'è Palazzo Palazzi e Santorelli chiede di farci diventare un hotel anche quello. Operatori divisi però sul progetto, dubbi sulla sua fattibilità ma le obiezioni sono superate. Andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico perché c'è la notizia, qui parliamo delle prossime regionali, c'è la disponibilità di Boris Rapa a candidarsi al Consiglio regionale. L'ipotesi si fa sempre più concreta soprattutto perché è il diretto interessato a confermare la possibilità di intraprendere un percorso politico. Chi è Boris Rapa? È il titolare dell'hotel Casadei, per anni presidente dei giovani albergatori di Fano Torrette Marotta e ora al vertice di Asso Turismo Marche. Per Rapa sarebbe possibile un ingresso in politica. Mentre Rosetta Fulvi rinuncia al posto nella lista del Partito Democratico, staffette in vista alla presidenza del Consiglio. A centro pagina sul Corriere truffa della frutta, i precedenti nell'urbinate. Due anni fa a una banda furono attribuiti 80 raggiri con le stesse modalità. Il racconto dell'imprenditore Busetto che li ha incontrati nel 2013. Un terzetto fu arrestato e poi condannato in seguito all'inseguimento di un ristoratore che stava facendo la fuga. Questi tre, che probabilmente erano appunto quelli che mettevano a segno questi raggiri della frutta, all'epoca questi tre che erano andati lì a mangiare in un ristorante dell'entroterra a Cagallo, erano andati lì a mangiare e poi se ne erano andati senza pagare il conto. Quando sono riusciti a fermarli poi è emerso che questi qui facevano le truffe, queste famose truffe della frutta di cui il Corriere si è occupato nei giorni scorsi. Ancora frane invece a Monte Felcino e nuovi collegamenti bloccati, provinciali, intransitabili. A Monte Felcino e nel tratto di Barbanti che unisce Pergola alla Valle del Metauro. Talè a Mondavio festeggia la tredicesima bandiera arancione è il nostro marchio, dice il sindaco, di qualità. A Senigallia movide cantieri, disagi nel centro storico, i negozianti si incontrano giovedì, intanto oggi la Meridiana saluta con una festa non stop. Apriamo adesso il messaggero, anche qui in evidenza naturalmente la sentenza ex AMGA condannata ad una multa, poi il calcio, Fano e Maceratese, uno sprint in sei tappe per la Lega Pro, Granata mai così vicini ai biancorossi. Le ultime giornate di campionato si pronunciano combattute e appassionanti. A centro pagina vedete nei pressi della PICA questo incidente, è stato trasportato il 42enne nelle ambulanze a Lancona, gravissimo lo scuterista, poi come è difficile evadere il fisco, lo dice la classifica, il capoluogo Pesaro figura tra i primi 12 nel rapporto accertamenti e riscossioni. Poi giorni miti e di bel tempo, l'abbiamo visto poco fa nelle previsioni della protezione civile. Poi sempre sulle regionali, Cesa annuncia, spacca, Forza Italia pronta ma avverte, voti con noi, area popolare formalizza l'appoggio al governatore, 30 dice no ai tre assessori esterni, ora sia coerente. Mentre Ceriscioli, candidato del PD, Marcolini assessore, deciderò dopo le elezioni. Liste PD, fuori la minoranza a Pesaro. Tensione, Macerata rinvia l'assemblea a stasera per risolvere i nodi. Anche qui ex AMGA solo una contravvenzione, le prime reazioni, Cecconi, l'onorevole del Movimento 5 Stelle, dice un'altra beffa. Ancora per chiudere la rassegna stampa, che qui vedete prende una buca, gravissimo uno scoterista, guardate questa fotografia di questa carambola. Poi sotto i 5 Stelle, il parcheggio a San Decenzio, regalo ai proprietari. E ancora, partecipate, la provincia vende le quote ma tiene per sé le più importanti. Liquida Cosmob, Convention Bureau, Consorzio Navale e Airdorica, mantenendo però la presenza in Megasnet e Marche Multiservizi. Sotto, pensionata derubata, amarotta mentre fa la spesa. È accaduto nel supermercato Lidl di via Litorane nel corso del fine settimana. La pensionata aveva appena lasciato il carrello per girarsi a guardare gli scaffali. Al ladro sono bastati pochi secondi per infilare velocemente la mano nella borsa, prendersi il portafogli e scappare. Quindi neanche più dentro il supermercato fare la spesa in santa pace. Pure al supermercato rubano. Smottamenti a Monbaroccio, già tre le strade chiusa al traffico. La preoccupazione del sindaco Angelo Ricchi, la preoccupazione che teme di non avere fondi a sufficienza per il ripristino, mentre a Urbino, dopo la frana, sono rientrate a casa le famiglie sfollate. Chiudiamo con la pagina di Fano. Santorelli, un albergo anche a Palazzo Palazzi. Il consigliere rilancia dopo i pareri positivi raccolti per l'idea di vendere lo stabile dell'urbanistica, trasformandolo in hotel. Mentre questa notizia che riguarda la cronaca, serate tra carte e coca, condannato a quattro anni, una sentenza che riguarda un fanese di 52 anni, li sconterà ai domiciliari. L'organizzatore è ritenuto responsabile di spaccio. A centropagini i profughi pronti a lasciare il plaza andranno via dall'hotel già oggi, diretti ad Acqualagna. Ma l'esperienza ha lasciato strascichi. L'albergatore, il proprietario del plaza, il mio giudizio è negativo. Poi, caso di sospetta scabbia in una scuola elementare, è quella di San Lazzaro, la scuola elementare Montesson. Ed è tutto. Grazie per averci seguito, buona giornata, ci vediamo domani. Grazie a tutti.